Qui ci troviamo nella zona cardio in cui naturalmente vi è possibile un miglioramento dei livelli cardiovascolari disponiamo di quattro ellittiche di tre bike e una bike recline macchinario wave e due step poi sono presenti anche 9 tapirulan i 9 tapirulan naturalmente hanno permettono una velocità che varia dai 0,8 ai 15 o addirittura questo tapirulan permette un massimo di 25 km orari la pendenza varia da 0 al 15 per cento